Il tema di questa stagione della creazione è il Giubileo della Terra. Con questo intendiamo la solidarietà, la restituzione, la liberazione e la consolazione. Per solidarietà i talenti e il coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato dall'abuso umano della creazione di Dio. Ogni lesione della solidarietà e dell'amicizia civica provoca danni ambientali. Il principio del bene comune si trasforma immediatamente, logicamente e inevitabilmente in un richiamo alla solidarietà e in un'opzione preferenziale per i più poveri dei nostri fratelli e sorelle. Restituiamo Restituiamo alla Terra la sua dignità, come creata da un Dio amorevole. Basta abusare della Terra e del mare Capire che, perdendo ogni specie, perdiamo anche una parola di Dio. Sentire il dolore di chi soffre per le calamità naturali e di chi soffre per mano di chi semplicemente non se ne cura. Agiamo sulla nostra chiamata per proteggere e nutrire la creazione di Dio. Liberaci dai vecchi schemi di vita e di pensiero che ci legano e distruggono la nostra casa comune. Dacci invece nuovi pensieri, nuovi modi di vivere. Liberaci dai vecchi schemi di vita e di pensiero che ci legano e distruggono la nostra casa comune. Libera noi stessi da tutto ciò che ci intrappola nel desiderio di ciò che è superfluo e dannoso per la nostra Terra. Libera la Terra e l'acqua da tutto ciò che li inquina e li danneggia. Libera il nostro spirito dal pensiero che siamo noi a comandare e aprice la libertà dello spirito. Rimaniamo nella consapevolezza che tutto è dono di Dio e siamo in grado di riferire tutto a Lui. Donaci una nuova coscienza che porti meraviglia di fronte alla bellezza omnicomprensiva del creato. Possiamo fare pace con il nostro Dio, con noi stessi e con tutto il creato in questa stagione della creazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.